16 Agosto 2022, Messaggio di Nostra Signora Regina della Pace Cari figli, allontanatevi dal mondo e vivete rivolti al Paradiso per il quale unicamente siete stati creati. Pregate. Solamente con la forza della preghiera potete sopportare il peso delle prove che verranno. Questo è il tempo opportuno per la vostra conversione. Il mio Signore vi ama e vi aspetta a braccia aperte. Valorizzate i tesori di Dio che sono dentro di voi. State attenti per non essere ingannati. Camminate per un futuro in cui molti cercheranno quello che è facile. Porte larghe saranno offerte e molte anime si perderanno. Soffro per quello che viene per voi. Non vi allontanate dal cammino che vi ho indicato. Quello che dovete fare, non lasciatelo per il domani. Avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Grazie per avermi permesso.